Quanto è importante il ruolo di un coro all'interno di una parrocchia? Noi abbiamo fatto questo nuovo percorso perché riteniamo che il coro all'interno della parrocchia sia un elemento fondamentale per aiutare l'Assemblea a pregare cantando. Abbiamo fatto su questo degli studi approfonditi e abbiamo notato che effettivamente la musica porta l'Assemblea ad un'attenzione maggiore, ad una concentrazione, ad una riflessione su quello che è la parola, quello che sono le parole che vengono dette in chiesa, il sacerdote eccetera e quello che sono gli insegnamenti. Purtroppo abbiamo una difficoltà, non abbiamo molti musicisti che sono disponibili a cantare con noi, per cui nel nostro percorso abbiamo approfondito lo studio di tecniche vocali per cantare a cappella. Anche oggi infatti presentiamo un brano senza accompagnamento musicale, un brano scritto da un nostro corista che appunto nella ricerca della preghiera e di una riflessione nuova nel percorso della nostra vita ha voluto riportare un pochino all'attenzione principale di Dio come guida di tutti noi e noi che abbiamo la possibilità di scegliere di fare questo cammino sapendo che abbiamo sempre la sua mano tesa verso di noi, sapendo che il suo sacrificio è il nostro sacrificio e la nostra preghiera a lui è solamente quella di accompagnarci in questo percorso ed è quello che noi vogliamo portare nella nostra parrocchia. Abbiamo fatto un percorso di scelta di brani, abbiamo cercato di eliminare tutto ciò che è diventato insomma canzonette non più liturgiche e stiamo cercando di riportare almeno nella nostra parrocchia il vero canto liturgico, la musica nella liturgia è intesa come tale. Buonasera a tutti, sono la mamma di una delle bambine che fanno parte di questo coro che si chiama Supersuola che fa parte della parrocchia polacca che è l'unica in Italia come luogo qui a Roma quanto è importante per noi mamme di origine polacca che residiamo qui in Italia da tantissimi anni è importantissima e siamo felicissime che le nostre figlie hanno tanta voglia di frequentare questo coro proprio perché è nato dalla loro spontanea richiesta per tutte le bambine che fanno parte di questo coro e sono oltre 15 bambine, quasi 15 bambine che fanno parte, tutte diciamo invitate a cantare nella lingua polacca come base ma anche nella lingua italiana e nella lingua latina. Io credo che sia fondamentale sia per chi ne vuole fare parte quindi a livello di aggregazione sia per giovani che meno giovani perché si entra in un mondo fatto di studio e fatto di lavoro per quanto riguarda brani creati apposta per la liturgia sia per chi invece magari è solo assiste solamente perché secondo me la musica veicola e attrae e crea attenzione su alcuni concetti che magari solo a sentirli parlare a volte tendono a essere ripetitivi mentre la musica dà quel sottolineare e un qualcosa in più quindi io credo che sia importante sotto tanti punti di vista. Il ruolo del coro è fondamentale, l'animazione liturgica come dice Sant'Agostino è un modo per pregare due volte cantare vuol dire pregare due volte quindi il ruolo dell'animazione liturgica in particolare del coro liturgico è fondamentale diciamo che una liturgia animata con un coro che sappia diciamo quello che deve fare è completamente diversa è veramente un'esperienza completamente diversa quindi diciamo è fondamentale il coro ha decisamente la sua importanza all'interno di una parrocchia e questo io ne sono convinta perché il coro accompagna i momenti più forti di tutto un anno liturgico noi poi siamo un coro, il nostro coro che comunque al di là dei momenti importanti diciamo anima tutte le domeniche la messa e quindi io penso appunto che un coro al di là di animare le messe importanti come possono essere il Natale o la Pasqua oppure in momenti forti debba comunque quotidianamente cioè settimanalmente accompagnare la liturgia sempre anche in tutte quante le celebrazioni veramente lo ritengo molto importante diciamo che è importantissimo io lo frequento il coro da parecchi anni e il maestro Walter Galli sia animando la parrocchia sia con i concerti di Natale e Primavera quindi è molto coinvolto il pubblico aiutano nei canti e diciamo animando la liturgia sono più partecipi ecco quindi è importantissimo sicuramente molto importante perché coinvolge varie realtà dai più piccoli ai più grandi per cui questo coinvolgimento diventa sicuramente fondamentale in una parrocchia è un po' percchiare così è un po' percchiare che è un po' percchiare un po' percchiare Grazie a tutti